Le mie proposte per far ripartire il mondo del teatro, il mondo della musica e il mondo anche della cultura in generale sono queste. Prima di tutto riaparire i teatri il prima possibile perché i teatri sono dei luoghi sicuri, questo consentirebbe la sopravvivenza di alcune piccole istituzioni per esempio e quindi tutto quello che è il nostro tessuto culturale diffuso sul territorio ai fini anche del raggiungimento del ponteggio del FUS. La seconda cosa è ripensare alla posizione dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Prendiamo esempio dalla Francia, a loro hanno questa figura che è l'intermittent du spectacle che effettivamente riesce a garantire una continuità ai lavoratori del mondo dello spettacolo, un mondo che già è complesso, è difficile a cose normali e che è risultato in tutta la sua debolezza di struttura proprio in questo momento.